un applauso intanto ai finalisti ti ricordo che sei già stato il titolo di campione italiano nel 17-18 nonché per guadagnarsi un buono in America dove si sono cercato in campionato mondiale signori io direi di cominciare questa finale il tempo sono due ore a partire da adesso però registrando allora una verde mi piace io facessi uno due e tre che mi sembra una carica ce l'hai anche ce l'hai anche già posso dire se siete arrivati qua su siete tutti forti si 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 vero sono veduti fortissimi che forti cazzo e a quelli ce l'ho proprio rossi quello di ventres allora come dicevi quanto l'uno 2 2 4 quindi 1 e mezzo giusto 7 10 quindi se funziona ora meno adesso ma nello 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 13 mi metto il triff dai l'ho mai fatto comunque ma però gli vedo c'è quelli qua dell'Africa mi piace ma ci sta preso anche ma qui ma 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 che ci no no già in poco no assolutamente no mi sa che ho esaurito il colore degli occhi qui c'è sulla mano colore mhm per i miei finanzii però sono quali loro vedi sopra loro vedi sotto loro vedi sotto allora facciamo così dovrei essere 20 e 50 se non ho combato male come 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 dovrei essere a 20 e 50 se non ho combato male ma ci muove 20 e 50 ok un ok 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 e ce n'ho già un millimetro di città più attenti c'è molto grazie caro mi piace molto grazie anche per questo e noi a casa bravo inizia il pianto grazie a tutti 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 ok grazie a tutti 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 grazie a tutti